eccomi arrivato finalmente dunque mi chiamo glober e vengo dal pianeta globo chi è là chi ha parlato ma come chi ha parlato eccomi sono qui sono dipinto da francis becon perché vedi nei dipinti e grazie alla fantasia degli artisti anche noi esseri umani abbiamo la capacità di assumere forme diverse da quelle che abbiamo realmente sul serio ci sono ancora tante cose da scoprire ragazzi venite a vedere il prossimo quadro